L'Atalanta, in vista del match contro la Lazio di mercoledì sera, perde un pezzo. Giampiero Gasperini, tecnico degli Orobici, infatti salterà la gara contro il Bianco Celesti per avere al 27esimo del secondo tempo nella gara contro il Sassuolo, contestato con vehemenza l'operatore del VAR, infrazione rilevata dal quarto ufficiale. Il giudice sportivo di Serie A ha squalificato 5 giocatori dopo i recuperi della 25esima giornata. Salteranno la prossima partita Fabio Borini del Verona, Luca Cigarini e Luca Cepitelli del Cagliari, Mario Pasalic dell'Atalanta e Marlon del Sassuolo. Roberto Gagliardini, mediano dell'Inter, sarà invece costretto a pagare una multa di 2.000 euro per aver simulato di essere stato sottoposto a intervento falloso in area di rigore avversaria contro la Sampdoria. In vista della trasferta di Bergamo contro l'Atalanta, in casa Lazio si apre il ballottaggio per una maglia da titolare in attacco al fianco di Ciro Immobile. Simone Inzaghi sceglierà tra due attaccanti diversi che offrono due modi diversi di giocare. Da una parte Caicedo, che offre più fisicità, può offrire sponde a Immobile permettendoli di giocare in profondità. Dall'altra Correa, tanta velocità, pochi punti di riferimento, dirbling e ampi spazi. La staffetta tra i due sembra la scelta più probabile. Con Gianluca Petracchi sospeso dal ruolo di direttore sportivo e destinato a lasciare la Roma, in casa giallorossa inizia a circolare la voce di un possibile clamoroso ritorno nella capitale di Walter Sabatini. Il dirigente è felicemente al lavoro per il Bologna e dopo la rottura con Pallotta, è da escludere un rientro con l'attuale proprietà. Un cambio ai vertici giallorossi potrebbe però rimettere tutto in discussione. C'è chi parla di un contatto già avviato con Fienga. Oltre a Sabatini c'è un secondo candidato e anche per lui sarebbe un ritorno. Si tratta di Ricky Massara, attualmente al Milan. La Honda può sorridere. La spalla di Marc Marquez è completamente guarita. Ad annunciarlo lo stesso pilota spagnolo in occasione di una gara virtuale tra squadre composte da giornalisti e appassionati. Sono completamente guarito. Posso già fare motocross normalmente. Spiega il campione di Cervera, che oltre a parlare delle condizioni della sua spalla, operata a fine novembre 2019, si dice entusiasta del ritorno alle corse reali di MotoGP. «Non vedo l'ora di tornare alla normalità, riprendendo a vivere la nostra passione più grande», ha affermato il sei volte campione del mondo di MotoGP. «Gran premi senza pubblico? Sarà qualcosa di strano, come fosse un test. Sarà freddo e diverso. Ma è meglio vedere uno spettacolo alla televisione che non vederlo affatto», conclude il pilota della Honda.